benvenuti in questo bellissimo angolo dei nodi i nodi per noi pescatori sono un qualche cosa di spettacolare perché sono i nodi quelli che ci uniscono al pesce quelli che ci uniscono i nostri filati i nostri trecciati e soprattutto sono coloro che ci danno quella certezza e quella sicurezza di avere sempre il pesce nel retino quindi un buon nodo significa essere anche sicuri di avere la cattura in questo nodo e con questo nodo vi voglio mostrare delle particolarità di un'asola quindi anziché utilizzare il classico 8 che sinceramente ho abbandonato già da tempo ma non perché sia brutto o perché non funziona ma ho trovato molto più funzionale quest'altro nodo quindi nelle mie asole mi sono completamente affidato ad un nodo che si chiama il perfect loop o loop perfetto è un nodo di una semplicità estrema ma ha delle caratteristiche di tenuta eccezionali e soprattutto ha una particolarità che ti lascia praticamente in asse la lenza madre quindi avremo un'asola con la lenza madre perfettamente in asse con il nodo la realizzazione è molto semplice semplicissima basta che mi seguite in piccoli passaggi e soprattutto questo nodo ha una particolarità ancora maggiore rispetto al classico 8 è un nodo che si stringe facilmente quindi è un nodo che vi consiglio di usare sia con i trecciati che con i fluorocarbon o nylon ma ve lo consiglio fortemente quando utilizzate nylon e fluorocarbon perché perché è un nodo che si serra immediatamente a differenza dell'otto specialmente se utilizzate fluorocarbon o nylon di grossi diametri 50 60 70 stesso dipende dall'utilizzo che se ne fa sono nodi che il il classico 8 dà problemi per quanto riguarda la fase di serraggio mentre il perfect loop con un semplice serraggio e soprattutto con poca forza è un nodo che rimane molto serrato quindi seguitemi in questo passaggio e vediamo come si realizza questo spettacolare loop perfetto noi non facciamo altro che ribaltare la prima asola la stringiamo tra i polpastrelli e poi andremo a ruotare l'altro capo intorno alla prima asola in questo modo andremo a creare una seconda asola che in pratica abbraccia la prima quindi le asole sono inverse in pratica e la parte che fa la parte finale del nodo che non del filo che non ci serve andremo ad inserire in mezzo alle due asole avendo cura di tenere tutto tra i polpastrelli adesso ci sono vari trucchi su questo nodo soprattutto perché poi questo nodo in pratica si ci si può regolare anche l'ampiezza dell'asola che si fa e ci sono delle piccole accortezze adesso ve le mostro innanzitutto per chiudere questo nodo una volta completati i passaggi delle asole si entra nella prima asola e si va ad abbracciare e a prendere la seconda asola e si deve traslare sulla prima in questo modo eccola qui avendo poi un po di cura e accortezza eccola qui si tirano i due nodi guardate questo nodo con quanta semplicità va in serraggio e con quale bellezza mette in asse l'asola con il filo eccolo qui serrato loop perfetto nodo perfetto poi ovviamente c'è da dire una cosa il loop perfetto bisogna sempre avere avere l'accortezza quando si realizza magari erroneamente può anche succedere che le persone magari sbagliano in fase magari si si è un po frettolosi e si usa e si utilizza magari questa parte come parte tirante del del nodo questo è sbagliato perché se noi l'andiamo a tirare guardate che cosa succede il modo si apre con una facilità estrema quindi vi ricordo sempre di avere l'accortezza di realizzare il loop perfetto in questo modo e ovviamente questa è la parte che tira e questa è la parte che va tagliata perché vi faccio rivedere altrimenti succede questo particolarità del loop perfetto particolarità molto importante e che all'interno del loop perfetto noi possiamo inserire una girella un amo o tutto ciò che un occhiello qualsiasi cosa che noi vogliamo collegare a al loop quindi per fare questo noi utilizziamo un primo passaggio che è questo una volta che questo capo ci rimane esterno andiamo ad inserire ciò che vogliamo far rimanere all'interno del nodo in questo caso sto utilizzando una girella o potrei mettere potrei mettere anche un amo potrei mettere qualsiasi cosa una volta inserita la girella andremo a fare il procedimento di costruzione del nodo come vi ho fatto vedere poco anzi prima asola seconda asola il filo in treccio le due asole ora noi andremo a passare la la girella all'interno della prima asola e con delle piccole operazioni dobbiamo cercare di tirare il capo tirante e quello dormiente in questo modo fino a regolarci l'ampiezza del nodo che noi vogliamo realizzare guardate che cosa ho fatto adesso in questo caso una micro asola dove ho inserito all'interno una girella eccolo qua con il loop perfetto allora vi auguro una buona costruzione grazie a tutti grazie a tutti